Nuove pompe di sollevamento per i comuni di Trapani e mesi di scemi. E' questo l'impegno concreto che ha assunto il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a conclusione del tavolo tecnico che si è tenuto dopo i vari sopralluoghi nel territorio di Salone Grande a Palazzo Dalì. Il Presidente Schifani stamattina ha voluto infatti toccare con mano la situazione dei territori dopo il maltempo delle scorse settimane e dopo soprattutto l'esondazione del torrente Verderame di giovedì. Per la dichiarazione di calamità naturale ci vorrà del tempo, ha detto Schifani, tempo che servirà ad acquisire la documentazione necessaria e per determinare la montare dei danni. Il Presidente Schifani è apparso consapevole dello stato delle cose e ha valutato attentamente le segnalazioni di tecnici ed amministratori, su tutte quella del Sindaco di Trapani, Tranchida, che è tornato a sottolineare la necessità di calmerare la forza delle acque piovane che scendono da Monte Erice a Valle. Fra 15 giorni un altro tavolo tecnico. Saremo sempre presenti in tutti i momenti delicati alla nostra terra. Innanzitutto vorrei ringraziare la protezione civile, l'aeronautica, i carabinieri. Poco fa ho ringraziato personalmente il Generale Luzzi di quello che è stato fatto in momenti così delicati. Abbiamo preso atto della situazione, abbiamo concordato con l'ingegner Cocina di disporre delle somme per la realizzazione di nuove pompe di sollevamento sia a Trapani che a missioni scemi. Nello stesso tempo disporre una relazione geologica da concordare con l'Università di Palermo, con professionisti per verificare che non si verifica più l'inondamento delle saline. E poi studiare attraverso l'autorità di bacino un sistema che preveda la pulizia dei torrenti perché è una situazione strutturalmente gravissima. e questo va affrontato, magari in una seconda fase, però va affrontato senza se e senza male. Ho avuto modo di parlare con diversi enti in questi giorni, purtroppo. Una digrazione importante per me è quella della direttrice attuale della riserva delle saline di Trapani e Paceco che è stata pure investita dalla piena, la quale dice che da anni non riceve richieste di pulizia dei canali. Sì, ma infatti quando ho fatto cenno l'autorità di bacino che dovrebbe occuparsi di questi temi dobbiamo verificare come mai non lo fa e verosimilmente non lo fa perché manca il personale. Quindi vi sono somme europee stanziate per finanziamenti per poter realizzare le opere. Quello che manca è la risorsa umana ed è un tema che trovo in questa regione che sarò chiamato a risolvere con un confronto con il Governo nazionale che ci consenta di sbloccare quel blocco delle assunzioni concordato con il Governo Conte e che ci impedisce naturalmente di inserire nuove risorse per realizzare progetti. Senza progetti, pur avendo fondi europei, non si possono ottenere la spesa è bloccata. Questo è il problema strutturale della regione sicilia che trovo. Sindaco, mi sembra che a parte la visita istituzionale, soprattutto il Presidente Schifani, lo stesso Schifani abbia dato più che una speranza per ottenere dei risarcimento e maggiore attenzione al territorio. Intanto arriverebbero delle nuove pompe di sollevamento. Ha preso un impegno formale. Sì, però le pompe di sollevamento servono a togliere l'acqua, servono a togliere la pioggia, non a risolvere il problema a monte. Attenzione, d'aiuto, ben vengano, anche perché il sistema è vetusto di 40 anni, è andato anche in parte in crisi. Dunque noi continuiamo a togliere l'acqua, la pioggia, dalla città che si allaga, dalla città che si allaga, il problema è un altro, non farla arrivare non dal cielo, ma da monte quest'acqua in città. E io confido molto sul tavolo tecnico per il quale l'ho assunto l'impegno per la prossima settimana per cercare di deviare le acque e ricostituire in un certo qual modo il vecchio canale di Scalabino, che è il canale di Gronda. Tu devi evitare di avere le più possibili acque che ti arrivano in città. Non basta solo quella del cielo, cioè basta già quella del cielo. Dunque dobbiamo evitare quell'altro. E dunque su quelle altre opere che io strategicamente insisto per il futuro, se no si tampona una volta, due volte, tre volte, dopo di ciò alla prossima bomba ancora più grave siamo peggio da capo. Da sindaco ti senti rassarenato dall'impegno che ha preso il Presidente Schifani? Tanto lo ringrazio per esserci. Mi sentirò rassarenato nel momento in cui è la concretezza che si facciano queste opere e questi interventi. Assieme alla dichiarazione è stata la metà naturale. Bisogna accelerare i rimborsi, i danni che hanno avuto i cittadini, che hanno avuto i commercianti trapanesi, ma anche le famiglie di Invisi di Scemi.